E' notizia proprio di qualche ora fa che a fine giugno partiranno i lavori per la demolizione, per l'abbattimento delle palazzine di Via Lago di Borgiano. Sindaco, parte la riqualificazione del quartiere Rancitelli a Pescara. Sì, noi in quel quartiere stiamo investendo molto, nel senso che puntiamo all'abbattimento di diverse strutture che oggi costituiscono dei detrattori ambientali. Abbiamo ieri fatto una riunione con l'Ater e con la Regione, c'era il Presidente del Consiglio regionale Sospiri, c'erano i dirigenti dell'Ater, il Presidente dell'Ater e in più i dirigenti e gli assessori del Comune di Pescara. Proprio per pianificare l'abbattimento delle palazzine di Via Lago di Borgiano, l'Ater ci ha assicurato che le procedure termineranno entro giugno e subito dopo si potrà procedere all'abbattimento di quei tre corpi di fabbrica che oramai da diversi anni sono abbandonati al degrado e che costituiranno il primo tassello della rinascita di quella zona perché lì dopo l'abbattimento non ricostruiremo ma puntiamo a realizzare piazze, giardini, impianti sportivi. Dopo l'abbattimento dei palazzi di Via Lago di Borgiano proseguiremo e quello sarà veramente il punto di svolta totale con l'abbattimento del ferro di cavallo. E poi stiamo aspettando anche, e anche ieri abbiamo sentito, i proprietari dell'area dove sorgono le palazzine, i ruderi dei palazzi clerico. Anche su questo stiamo andando avanti e tra breve anche lì ci sarà la trasformazione totale dell'area. Insomma ci sono interventi importanti, definitivi, non ci occupiamo soltanto delle problematiche legate al Covid ma stiamo proseguendo con tutte le attività comunali. Non ci siamo mai fermati perché vogliamo dare veramente risposte concrete ai cittadini di Pescara, risposte che aspettano da tanti anni, che sono state in evase e che finalmente quest'anno vedranno la loro conclusione. Giusto anche precisare Sindaco che nessuno poi resterà senza casa, chi avrà diritto avrà un nuovo alloggio. Questo è scontato, prima di abbattere si farà in modo che le persone che occupano quegli alloggi ne avranno altri, migliori sicuramente perché al ferro di cavallo c'è una condizione di degrado generale insopportabile. E poi al posto del ferro di cavallo sorgerà un'edilizia nuova che sarà all'avanguardia perché noi puntiamo anche a fare progetti innovativi che si inseriscono perfettamente nella nuova condizione di abitazione post Covid perché abbiamo bisogno di spazi ampi, di balconi, di giardini. Non si può vivere più in casa che sono dei loculi senza neanche degli spazi esterni.